BiperBanca è oggi un operatore a livello nazionale che risiede nelle prime quattro posizioni, poi evidentemente questa graduatoria risente fortemente degli asset che prendiamo in considerazione, banalmente per numero di sportelli sul territorio nazionale oggi BiperBanca è il terzo istituto a livello nazionale. Ha mantenuto, pur avendo una dimensione ormai importante sul territorio, una connotazione di fortissima prossimità ai territori, quindi il modo di fare BiperBanca è un modo di applicare il servizio finanziario e il sostegno ai territori, alle aziende, alle famiglie consumatrici in un'ottica evidentemente di banca di prossimità. Le recenti operazioni societarie che ci hanno visto coinvolti hanno portato in Lombardia una presenza di BiperBanca significativamente importante. Mi piace ricordare che alla luce del perfezionamento dell'operazione Gemini, così l'abbiamo denominata in BiperBanca, oggi la banca ha una presenza significativa su tutte le principali province lombarde. Banalmente rimanendo su territori che ci sono più vicini, siamo la prima banca a Brescia per quote di mercato e numero di sportelli, siamo la prima banca a Varese per quote di mercato e numero di sportelli e a Bergamo siamo nelle primissime posizioni. Importante è anche la presenza di BiperBanca nelle province di Milano e Monza Brianza e a conclusione dell'operazione societaria che citavo avremo anche su Pavia una presenza significativamente rotonda. Quindi io credo che l'ambizione di BiperBanca sulla regione Lombardia, su Nord Italia, oltre alle connotazioni nazionali, siano quella di giocarsi evidentemente una partita da protagonisti. Il settore dell'acciaio è un settore importantissimo, caratterizzato da eventi straordinari, io credo che di questo poi CyberWeb e i partecipanti ai vari incontri ce lo sottolineeranno. L'effetto delle materie prime nel mercato dell'acciaio evidentemente hanno comportato dei cambi di paradigma e credo che questo sia un punto che come banca e come operatori del territorio dovremo porre in grandissima attenzione. Per quanto attiene la nostra proposizione verso la filiera dei metalli in generale, credo che sia in questa fase evidentemente una grandissima attenzione di ascolto. Sarà molto importante da parte nostra, ascoltare gli attori di questo mercato, comprenderne bene le esigenze e credo disegnare te ormai dei vari interventi che saranno necessari evidentemente andare a predisporre. Mi piace anche sottolineare che il momento è veramente straordinario, nel senso che le evoluzioni di macroeconomia a cui stiamo assistendo a livello planetario, ne cito una su tutti, le eventuali ipotesi di Dazi che la Cina potrebbe inserire o introdurre nei prossimi mesi comporta una rivisitazione completa. Quindi grandissima attenzione, grande ascolto ed evidentemente grande interesse su quello che gli operatori ci riferiranno nei prossimi giorni.